Cammina, cammina, vai, vai. Guarda, è incuriosito Dalo, lo vedi? Puoi sale sopra? Vai, vai, cammina, è carino. Se non cammina? È il Gheberto. Divertente quando si guarda attorno, eh? Bellissimo. Aspetta. Cos'è? Ma cos'è? Com'è carino. Wow, è divertentissimo. Ma cos'è? No, come si sta? Come? Guarda. Però ti fa maggiore. Dove, dove? Eccolo lì. Eh, faccio a noi. Wow, un fio di acqua sotto è bellissimo. Guarda. Guarda, arriva qua. Guarda. Sono spettacolari, amore. È bruttino. Com'è? È bruttino. Ok. Più robbio. Questo io lo sento. Cari, mi ha vittimini. Guarda, questo non è appena visto. Si entra qua dentro? Fulvio? Fulvio? Dove vai? Ma c'è una mazza qua. Chi ce l'ha portato? Io, io ce l'ha misi. E perché? È un segno di... Un mio ricordo. La mazza si... Ecco il dottor Fulesp. Dove ci troviamo, Fulesp? Nel cuore della montagna. Siamo nelle viscere della terra. Sì. E sopra di noi vola il ferro di... Fulesp! Oh! Questa tuta è... Siamo all'interno della grutta del Romito. Una grutta rara e sconosciuta del Neolitico. Sopra di noi il ferro di cavallo maggiore. il rinofo lussoferrum e guinomo ci sta ascoltando. Ma posso è? Bisogna parlare delle grotte e non bisogna accendere le luci. A me sembra... Andiamo verso la tana del ferro di cavallo maggiore. Ragazzi, ci ha visto? Ci stanno usando? Sta per partire, sì. La luci punta? Sì, sì. Ma se ne va. Allora lui ha messo l'infrarosso, guarda. Oh, piccolino. Lo posso illuminare un po'? Sta pronto per andarsene, ragazzi? Stiamo per tornare a casa. Oh, aiuto! Oh, aiuto! Oh, aiuto! Oh, guarda, sto nel nulla! Oh! Stiamo rientrando dall'escursione nella grotta del Romito. Abbiamo raggiunto l'alta quota e Full mi chiede se questa è una Orchis. Sì, Full, è una Serapias lingua. Sì, Full,